per realizzare i cambiamenti culturali occorrono varie condizioni uno bisogna essere attrezzati sul piano culturale bisogna avere un solito come dire una solida elaborazione teorica e non mi sembra che qui ci sia con questa testa una solida elaborazione teorica però c'è la velleità la velleità di contrastare quella che viene detta una tradizionale egemonia culturale della sinistra il che per carità nella contrapposizione delle deci può stare però venendo al punto io qui vedo solo concretamente una velleità e invece in realtà la realtà è di una destra che si nutre di una cultura molto modesta senza voler offendere nessuno una destra che ha delle pulsioni reazionarie vere e proprie perché attenzione se tu vai in in Ungheria e sposi e ti ritrovi a condividere con Orban un linguaggio un lessico una prospettiva di questo tipo come pure quando incontri i tuoi amici di Vox o come incontri anche i tuoi amici polacchi e poi invece fingi di voler staccarti da quella tradizione quelle tradizionali pulsioni che sono pure nel tuo partito dimostri soltanto confusione concettuale allora io sono d'accordo a questo punto di vista innanzitutto è assolutamente improprio ragionare da parte di un presidente del consiglio che vuole difendere Dio e poi il credente come come la ma io l'ho anche scritto io ho detto questa frase io da cattolico cattolico convinto cattolico di formazione non mi sono mai permesso da presidente del consiglio di esprimersi in questo modo a parte che mi sembra veramente qui mi viene in mente quando diceva ai suoi collaboratori non troppo zelo come dire stati buona che Dio si difende da solo da solo ma poi è proprio improprio perché contrasta col principio di laicità dello stato con la libertà religiosa ma voi pensate un attimo che cosa possono percepire i cittadini italiani in questo in questo momento che ad esempio non sono cattolici o credono in un'altra praticano un'altra confessione religiosa avere un presidente del consiglio che dice io difendo Dio ma cosa significa io difendo la famiglia un singolo come si deve sentire e oppure quale famiglia adesso non fate le battute la famiglia propria non fate le battute però dico è proprio sbagliata l'impostazione è un'impostazione che nasce divisiva non è identitaria e divisiva e sono pulsioni assolutamente reazionarie retrograde che dobbiamo contrastare piuttosto se vogliono davvero preoccuparsi di quello che il fondamento religioso questo vale in particolar modo per chi invoca Dio dovrebbero preoccuparsi dei più bisognosi degli ultimi degli umili e non invece schiaffeggiarli come è stato fatto ma soprattutto umiliandoli perché tu puoi anche proporre un tuo una tua riforma ma il fatto di umiliare sistematicamente e di ridere chi ha difficoltà bollando i giovani come scansa fatiche coloro che chiedono una protezione dello stato come divanisti e sistematicamente spaccando il paese negando il fatto che si siano salari da fame e cercando adesso di spaccare questa platea che mira ad avere un salario minimo e cercando di dividere la semai con una norma che proteggerà solo una parte di questa platea ecco questo significa veramente un atteggiamento irrazionale irresponsabile che di cui questo governo noi si assumono le conseguenze